Musica Io sono Daniele, lei è Nathalie e poi c'è Jamie, l'altro ragazzo che lavora con noi che però adesso è tornato in Inghilterra. Noi siamo il collettivo The Polar Bear is Dead, l'orso polare è morto. Ci siamo conosciuti a Birmingham tre anni fa al B-Festival dove ognuno portava il proprio spettacolo e trovandoci così a chiacchierare fuori dagli spettacoli ci siamo rietti i nostri spettacoli sono molto interessanti, mi piace il tuo lavoro, mi piace il tuo lavoro, mi piace il tuo lavoro perché non collaborare insieme? I think residences are really important to companies to be able to have that dedicated time to focus on a show is quite exceptional at the moment. Trying to make work in between having other jobs is really really difficult so when we get the opportunity to have a period of time that is funded in a space with tech support it really allows us to push forward with ideas and the show and we really would have struggled without the opportunities we've had in Italy and in England. Quello che abbiamo trovato noi lavorando insieme è che ognuno di noi ha un differente background arriva da diverse scuole, diversi stili e quindi poterli mettere insieme e cercare di capire come loro possono funzionare in un nuovo lavoro questo per noi è ricerca del contemporaneo. e per me, una delle principali ragazze che mi piace la performance contemporanea è che si apre la conversazione con l'audience. Non sono separati, sono molto parte di quello che stiamo facendo e questo è qualcosa che io, Daniele e Jamie hanno in common. Ciao! Ciao! Grazie a tutti! Ci vediamo presto! Ci avvermidi presto! Ci vediamo presto! Ci avvermidi anni presto! Grazie, ciao! Grazie a tutti!